Ben tornati e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale, in apertura una notizia che arriva da Torino. C'è stata una prima condanna per il processo Eternit BIS che vede sul banco degli imputati l'ex patron dell'Eternit, Stefan Schmidaini, condannato questa mattina dal Tribunale di Torino a quattro anni di carcere per la morte di due persone di Cavagnolo, dove la multinazionale dell'Amianto aveva una sua filiale. L'imprenditore svizzero sarà chiamato a deporre anche a Vercelli, a Napoli, sedi dove l'Eternit BIS è stato spacchettato. In tutti i procedimenti dovrà rispondere di omicidio colposo, con colpa cosciente, così come ha sancito il Gup Federica Bompieri andando contro la decisione del PM Gianfranco Colace che invece aveva contestato a Schmidaini l'omicidio volontario per centinaia di morti che si erano verificate a Casale Monferrato, Cavagnolo e Bagnoli di Napoli. Durante la lettura del verdetto di questa mattina era presente anche una delegazione della FEVA di Casale Monferrato. Il giudice ha anche ordinato il pagamento delle provvisionali agli eredi delle vittime. E adesso invece i carabinieri del comando provinciale di Alessandria e la polizia di mezzo Europa hanno sgominato una banda pericolosa, un'organizzazione criminale di rumeni detti da furti e a rapine e danni di centri commerciali di tutto il nord Italia e anche di paesi esteri. L'operazione è stata denominata Alta Moda e ha portato in carcere 22 persone. Ci racconta tutto Franco Capone. Dopo aver sgominato la banda degli albanesi specializzati in rapine e furti in ville e abitazioni, i carabinieri del comando provinciale di Alessandria, diretti dal colonnello Angelo Michele Lorusso in collaborazione con i militari del comando compagnia di Tortona, guidati dal maggiore Carlo Giordano e la polizia di altre nazioni, hanno sgominato un'organizzazione rumena dedita a furti e rapine in negozi, centri commerciali, outlet di tutto il nord Italia e all'estero. La banda, ben strutturata con basi logistiche a Castelnuovo, Scrivia e Tortona in provincia di Alessandria, 22 le persone arrestate ed una ventina quelle denunciate a piedi libero. Nel corso della conferenza stampa tenuta al comando provinciale dei carabinieri di Alessandria la quale ha preso parte anche il procuratore capo della Repubblica Enrico Cerni, è emerso che l'organizzazione criminale è accusata di associazione a delinquere dedita a furti e rapine commessi non solo in Italia ma anche in altre nazioni europee. La banda, ha detto il maggiore Carlo Giordano, era esperta in furti di apidi griffati, costosi ed eleganti che trasportavano poi in Romania per poi rivendere in Italia e all'estero. Il procuratore della Repubblica, dopo aver evidenziato il danno economico e commerciale dei furti, ha sottolineato l'impegno svolto dai carabinieri e dalle forze di polizia europee. Alle 10.40 di questa mattina è scattato l'allarme rapina alla filiale dell'unicredito di Piazzetta della Lega d'Alessandria. Dal 112 gli operatori in servizio, non avendo avuto risposte in merito, hanno attivato il pronto intervento delle forze di polizia che in pochi secondi hanno raggiunto il cuore della città. Armi in pugno, carabinieri, polizia di Stato e i cittadini dell'ordine dopo aver circondato la banca hanno fatto irruzione, ma per fortuna si è trattato solo di un falso allarme. E continuano invece le polemiche sul Pride che si terrà il 1 giugno ad Alessandria. Stavolta è l'organizzazione non una di meno della Casa delle Donne di Piazzetta Monserrato che dice che il sindaco patrocina il Pride e poi anche chi sostiene che i gay sono da curare, in particolare Luca Di Tolve che vuole curare lesbiche e gay. L'avvenimento è programmato per domani, venerdì 24 maggio, alla parrocchia di San Michele. Si terrà questo incontro con Luca Di Tolve che sostiene di essere protagonista della canzone di Povia, Luca era gay, attualmente a capo del gruppo Lotto. Nel comunicato molto polemico l'associazione non una di meno sostiene che proprio il gruppo Lotto è al centro di inchieste giornalistiche perché promuove ed esercita le terapie riparative dell'omosessualità disconosciute e condannate dalla comunità scientifica perché prive di fondamento e pericolose per chi le subisce e vi sottopone. Di Tolve, autore del libro Ero gay, a me giugorio ho ritrovato me stesso, poi ironicamente continua sempre il comunicato. Il nostro appello è terrapiattisti, sostenitori delle scie chimiche, rettiliani, palesatevi, è il vostro momento ad Alessandria, luogo adatto a voi. La nostra città è pronta ad accogliere le idee di tutti e di tutte, anche le più allucinanti e pericolose. Tanto si sa che il bullismo quotidiano, subito quotidianamente dalle persone LG, BT, eccetera, le discriminazioni, i pregiudizi e la violenza sono dilaganti. E adesso veniamo invece alla Guardia di Finanza che ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di oltre 700 giovani. Il comandante del nucleo economico finanziario delle Fiamme Gelle di Alessandria, Tenente Margherita Valente, ci spiega come si accede al concorso. Il 26 aprile è stato pubblicato il bando per il concorso per titoli e per esami per il reclutamento di 765 allievi finanzieri. Domanda a chi si presenta? Si presenta online sul sito www.gdf.gov.it nella sezione concorsi. Possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei diritti politici e civili, in possesso del diploma di istruzione secondaria, che hanno compiuto 18 anni al termine di scadenza della domanda per il concorso e non abbiano ancora compiuto 26 anni di età. Pino a quando fanno in tempo a presentare la domanda? Pino al 27 maggio. Il 27 maggio alle ore 12 c'è la scadenza della presentazione della domanda. Cambio della guardia al comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Da lunedì assumerà il nuovo incarico il primo dirigente Roberto Marchioni, che prenderà il posto di Claudio Giacolone. Nato a Novara nel 1965, si è laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria Civile. Sposato e padre di due figli, Giacolone ha partecipato a missioni di soccorso su tutto il territorio nazionale in diverse occasioni di calamità, come l'alluvione Piemonte del 2000, i terremoti di Salò, Abruzzo e Amatrice e il crollo del ponte Morandi di Genova. L'Assemblea dei Soci del Gruppo AMAG ha nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione che condurrà per i prossimi tre anni la partecipata più importante del Comune di Alessandria. È stato confermato Presidente Paolo Arrobbio, Mauro Bressan ha invece terminato i suoi cinque anni da amministratore delegato. Il suo posto nei prossimi giorni sarà nominato ufficialmente il nuovo amministratore delegato che, come vi abbiamo anticipato, sarà Adelio Ferrari. Altri componenti del CDA sono Michele Ivaldi, Maria Repetti e Giancarlo Falleti. L'Assemblea ha anche approvato i bilanci 2018 delle diverse società del gruppo. Ma vediamo le interviste in questo servizio. Come un bilancio di AMAG, Presidente? Sì, allora, oggi noi siamo arrivati, abbiamo appena terminata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2018 e per il rinnovo delle cariche sociali all'interno del gruppo. Cariche che scadono nei tre anni, è scaduto il mandato dei tre anni, stamattina abbiamo riproposto la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, del nuovo Presidente e abbiamo approvato un bilancio che porta un utile netto di 4.296.000 euro. Su questo bilancio abbiamo chiesto all'Assemblea degli azionisti di non andare alla ripartizione degli utili dando una cedola ai vari azionisti, ma di accantonarlo a riserva. Questo perché? Perché questo accantonamento ci permette di incrementare il patrimonio della società, incrementare il patrimonio della società per un semplice motivo che è quello di andare a ricorrere domani al sistema bancario per andare a chiedere fondi, fondi per fare che cosa? Fondi per andare a fare investimenti. Faccio un bilancio dei miei cinque anni perché oggi è stato nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione, al quale faccio i miei auguri. Io termino un percorso, io ho avuto il grande onore datomi dal sindaco di Alessandria Rita Rossa di condurre con il Presidente L'Ore dei Capitani questo gruppo a una profonda trasformazione, trasformazione che è stata realizzata grazie all'enorme lavoro di tutti noi, dei dipendenti, dei collaboratori che hanno affrontato le sfide di ogni giorno con grande passione e grande impegno. Io sono soddisfatto perché ho avuto un rapporto splendido con tutti i 60 sindaci, perché ritengo che questa sia un'industria e che valgono due concetti fondamentali, industria e comunità. Anche i più piccoli devono avere la loro voce all'interno di questo gruppo, che è un gruppo industriale, un gruppo dal quale la politica deve continuare a restare fuori come è stato fuori fino ad oggi. Trò poco avremo le elezioni, abbiamo un promo che spiega come funziona. ELEZIONI 2019 Lunedì 27 maggio, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 18.30 Aggiornamenti su 7 Gold Telesity, canale 10 del Digitale Terrestre Maratona elettorale a partire dalle ore 16 su TV City 1, canale 111 del Digitale Terrestre Diretta Facebook sulla pagina 7 Gold, Piemonte, Liguria E tra poco parleremo invece in Inside the Crime dello STUB, uno strumento che viene usato dagli inquirenti per rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani di chi ha usato recentemente un'arma da fuoco, ma quanto è importante questa tecnica nelle indagini investigative ce lo dirà tra poco lo scrittore criminologo Viaggio Fabrizio Carillo nella rubrica Inside the Crime e poi subito dopo avremo lo sport, nella pagina curata da Fabrizio Mattana parleremo della tappa Carpi Novi del Giro d'Italia con i risultati e le classifiche. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.